Un piano antenne per evitare l'installazione di nuovi ripetitori sul territorio di Montesano sulla Marcellana è quanto disposto dall'amministrazione guidata da Giuseppe Rinaldi. Un piano che, stando alle diverse sentenze del Consiglio di Stato, andrebbe a bloccare qualsiasi nuova installazione, congelando così le varie multinazionali. L'approvazione del piano comunale delle antenne, commenta il primo cittadino, è avvenuta all'unanimità. Un piano la cui idea risale al 2015 e che oggi diventa positiva realtà. Montesano, continua Rinaldi, avrà un valido strumento di difesa, di tutela e di regolare pianificazione del suo territorio da problemi oramai diffusi. Un piano che potrebbe essere preso anche esempio da altri comuni del comprensorio che avevano già avviato questo tipo di idea. A Montesano sulla Marcellana, inoltre, è stato anche deliberato contro l'idea di costruire a Sant'Arsenio la centrale di Biometano. Nell'ultimo Consiglio Comunale, inoltre, è stato rivelato che sono proseguiti i contatti con poste italiane per portare, nella frazione di Tardiano, a cinque giorni di apertura settimanale l'ufficio locale. Inoltre, il sindaco ha rivelato che il finanziamento del mutuo senza interessi del campo sportivo di Giuda è stato approvato, esprimendo la sua soddisfazione.